E ci troviamo in compagnia di Gabriele Punzo, il patron di questa bellissima struttura, insieme ai suoi spettacolari figli, quattro figli, due maschi e due femmine, tutti e quattro che lo affiancano e partecipano a questo progetto che è importante per il territorio del Cilento e in particolare di Agropoli. Allora Gabriele, soddisfatto di questa prima tappa che è importante, un campionato italiano di nuoto pinnato, se ne parlava da anni ed è stato realizzato proprio nella tua struttura che hai tanto voluto. E' certo, ci ho messo tanto, a parte ci siamo creduti dal primo momento perché le cose noi dobbiamo farle, farlo bene per i giovani che stanno qua, vedi quanti giovani sono stati oggi qua di diverse città italiane, Roma, Perugia, tutto. E hanno trovato una realtà che tutti non so se lo aspettavano, come una realtà di pulizia, di ordine, di organizzazione che Napoli porta la nominata che non siamo gente. Abbiamo dato la dimostrazione che anche Napoli, Agropoli, che la vecchia tendenza dei romani, dei greci, ha fatto vedere cosa si riesce a fare. E' tutto. Sono orgogliosi che le cose sono andate bene, tante persone. Abbiamo riempiti i ristoranti e gli abberghi della zona di tante. Una piccola azienda come l'Isium, che vedi oggi tutte le abberghe Capacce, Serenelle, via di tutto, stanno pieni delle persone che sono venute da noi qua così. E' una grande soddisfazione. Tu sei una persona molto tenace, non ti scoraggi. Da quando hai iniziato nella tua carriera lavorativa, dal piccolo dovete sapere, perché Gabriele è stata una persona umilissima sempre. E' un vecchio operario dell'Alenia di oggi, che oggi non si chiama più Alenia, sono un vecchio operario di allora. E io passo passo, con tenacia e con la forza di mia moglie e anche dei miei figli che mi hanno seguiti, tutti e quattro, e tutti e quattro stanno con me. Tutti e quattro parliamo insieme. Adesso io ho lasciato un po' le retine, come si dice a Napoli, e ho lasciato ai giovani. E io sto sempre dietro, quindi a loro che li controllo. Ma le faccio fare a loro, i giovani, perché l'idea è nuova, è importantissima. Deve dare la possibilità ai giovani di esprimere le loro idee, i loro pensieri, le loro cose da fare. Sì, perché dovete sapere che Gabriele, originario di Napoli, si è innamorato del Cilento, in particolare anche di Agropoli, ed è venuto qui insieme alla sua famiglia. E hanno creato diverse strutture. La tesi, che è una grande realtà di questo territorio, che dà lavoro a tantissimi ragazzi, qui ci tengo a precisare, che 150 famiglie, composte soprattutto la maggior parte da giovani ragazzi, lavorano insieme a Gabriele. Poi l'Elysium, che è un'altra struttura di questo territorio, che accoglie tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, che hanno potuto realizzare, tra virgolette, anche il loro sogno, quello di lavorare in una piscina, in una struttura come quella dell'Elysium. Però, ecco, quello che io vorrei da te, ogni qualvolta noi ci incontriamo e facciamo queste belle interviste, ci tengo sempre, insomma, a farti dare un messaggio. Perché solo guardando, ecco, l'esempio che sei tu e quello che hai creato, forse si può stimolare un po' il territorio, il cittadino. Quindi diamo un po' dei consigli e come si può fare in presa oggi veramente? Quello che manca, che io sto cercando, veramente sto cercando, quello che manca in questa zona, che chiude l'anello di quello che io ho fatto, ho cominciato a fare, perché non ho finito ancora. Io non mi sono fermato ancora, perché fra un anno qua troverai ancora altre cose nuove. Troverai una pista di patinaggio, troverai una pista di balla, troverai un albergo fatto per bene. Quello che manca, manca qualcuno che mi aiutasse, mi aiuta a fare i prodotti cilentani, di fare un stage, di fare un reparto, una cosa bellissima con i prodotti cilentani. Che è la cosa che manca, però è una cosa fatta seria, fatta pulita, fatta ordinata, non fatta così a chiacchiere poi abbandonate e rimangono nelle cattedrali in piedi senza senso. Allora, a questi giovani che stanno qua nella zona, che vengono da me, ne parliamo, ne ragioniamo, che hanno lo spirito di portare avanti, trovano tutto il mio appoggio, tutta la mia personalità che possa darglielo a disposizione. Tutto, tutto. Però questi giovani devono venire e dicono che non c'è lavoro. Per me non è vero che non c'è lavoro, c'è tanto lavoro e c'è tanta cosa da fare. C'è la volontà e il sacrificio. Io oggi ho 66 anni, 76 anni, io mi alzo ancora alle 6 di mattina, sono il primo a andare in fabbrica e sono l'ultimo a andare via. E insieme a me anche i miei figli. Questo è sacrificio. Però questi sacrifici dopo ti viene ripagato. Ecco, oggi, parlando con te qua, io sono orgoglioso, bellissimo. A parte ci facciamo la chiacchierata e vediamo il panorama, una struttura bellissima che ho fatto, la gente, i giovani che sono venuti. Soddisfatti di così non si può essere. Della vita sono contentissima, anche perché anche i miei figli, i miei nipoti che stanno venendo, che già stanno lavorando in questa struttura, come Ludovico, come Gabriele, come Vinci, che sono i miei nipoti e che è la terza generazione che già sta andando avanti. Non si sono fermati. Creati posti di lavoro. Questi ragazzi hanno sempre il lavoro. Perché gli altri non hanno il lavoro? Non lo vogliono? Vogliono solo cose, sacrifici, non vogliono farlo. E quindi sulle bellissime parole che adesso Gabriele ci ha rilasciato, è l'invito soprattutto ai tanti giovani di venire proprio a proporre le proprie idee per questo progetto futuro che Gabriele vuole realizzare. Quindi mi raccomando, fate tesoro di quello che oggi Gabriele ci ha detto, perché è importante soprattutto crederci e non cullarci un po' sulle situazioni della vita. Anche i padroni del comune, della regione, delle cose e via di sé, di vedere con chi hanno a che fare. Se hanno a che fare con le gente che fanno chiacchiere, hanno a che fare con le gente che fanno fatti e fatti fatti per bene. Quando una di noi va sul comune per avere qualche pratico, qualche cosa, che lo facessero quanto più presto possibile. Non è che lo metta là a dormire, quella cosa che resta, si dice sempre italiana. Non è vero. Dobbiamo essere noi del territorio di spingere forte e di darla un aiuto a quella che ha l'idea di portare avanti la cosa. Infatti, perché questa è una richiesta proprio agli amministratori locali di evitare la lungaggine burocratica e di smuoversi quando c'è un imprenditore del posto che vuol far funzionare il comune e anche le attività che poi si vogliono creare all'interno di questo comune. Quindi grazie Gabriele, grazie per le tue parole, per i tuoi preziosi consigli. E avanti tutta, tu sei una macchina da guerra, io lo dico sempre, non ti fermare mai perché sei la nostra speranza e grazie a te noi riusciamo ad avere la forza per andare avanti. La forza che gli ho data io, vedi tutta la famiglia, i nipoti e cose che vanno avanti. Insieme ai miei nipoti potrei mettere tanti altri giovani che stanno qua, che ci vengono a proporre delle cose serie che noi stiamo a disposizione. Grazie.